Ma che sta succedendo in questo titolo, in questi titolini, in questo titolo? Je mange la baguette avec Springtrap fratmo! Springtrap Stavo aspettando da un anno di poter mettere questo mio meme sul canale, ragazzi, Springtrap fratmo è un mio meme, personale con alcuni miei amici, adesso è di tutti! E comunque, saluto a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, io sono Lamber, oggi siamo tornati qui su The Glitcher After Action, ciao Frankenfreddi! Nello scorso episodio siamo arrivati qui, nella terza stanza, dove dovremmo provare ad uscire! E qui ci sono alcuni indizi, ci sono delle telecamere che guarderemo per capire da dove ci attaccheranno gli animatronici A quanto pare c'è una leva per spegnere e riaccendere il sistema, non so che cosa serva, ma lo scopriremo Poi, le porte, dovremmo chiudere per evitarle che ci uccidano malamente, però ovviamente hanno energia limitata E poi ci sono le allucinazioni, le allucinazioni, le allucinazioni, renderanno questa notte molto più difficile E dobbiamo anche completare i puzzle e uscire dalla porta prima che qualcuno riesca ad entrare Qui dentro, non so quali puzzle ci saranno qui dentro, volevo provare a controllare, ma l'unica cosa che mi viene in mente E questo tastierino è il gioco qui, il Save the Children Però, non sappiamo più nient'altro di questa terza notte E allora, sarà meglio iniziare a scoprire che cosa dovremmo fare Morirò un paio di volte, tante volte, però iniziamo Per esempio, ecco che si aprono le porte Le telecamere come funzionano? Ah, devo scegliere quale guardare Ah, io come faccio? Left room Cosa è successo? Mi ha tolto la telecamera, un maledetto Ci sono pure per le ventilazioni Ok Però più che altro volevo capire Come sapere quando mi stanno per attaccare a sinistra e a destra E mi sa che devo spegnere e riaccendere Per fare funzionare la telecamera? No, allora non so che cosa serva Foxy Foxy La volevo chiudere fuori, non farmi prendere guardandola tramite le allucinazioni Però vabbè Vediamo, che devo fare? Sento qualcuno nei condotti Questi condotti? Questi condotti? Sì, quel condotto Foxy no? Porco due! Ma ragazzi, non ho manco capito cosa Mi schiaccio Non ho manco capito cosa io debba fare No, raga È difficilissimo Dalle telecamere dobbiamo vedere se sta camminando in una delle In una dei corridoi e in caso chiuderlo Se nelle ventilazioni Dobbiamo controllare dov'è Se in una Ci sono delle ventilazioni che portano fuori alle porte Dobbiamo chiudere la porta giusta O in caso se va in un condotto che porta all'ufficio Dobbiamo spegnere le luci per evitare di farci vedere È un casino E non so manco ancora come poter aprire quel condotto dove dovrò scappare È difficilissimo È difficilissimo Però credo che lo posso sentire quando mi sta per attaccare Ok? Il suono sarà qualcosa che ci aiuterà tantissimo Più che altro devo capire quale telecamera corrisponde a quale Va bene, riproviamo Devo capire Per esempio Duck AX Credo che queste qui siano per le zone esterne Allora Per esempio adesso lo sto sentendo camminare, vero? Mi è sembrato Eccolo! Left Left Porco 2 L'ho visto correre o sbaglio? E infatti Ha corso È un maledetto E quindi adesso se ne va Posso riaprire? No, non posso riaprire Porco 2 Aspetta, no, eh Inizia dalla stanza principale Poi va a sinistra o a destra Capisco E poi può decidere di andare da uno dei condotti Il problema è che devo capire qual è quello che mi porta alla mia stanza E quello che va? A quello destro Però so che sta per venirmi ad attaccare da destra adesso Tra l'altro sta roba qui che cos'è? Eh? Non so cosa sia Oh, ah, posso vedere dalle ventilazioni Mi fa vedere proprio la mappa, ok Devo trovare un codice per avere la modalità da developer Per poi usare le porte di emergenza La mappa per le porte di emergenza Non ci capisco molto Adesso aspettiamo di vedere dove vada Perché in caso lo fermo prima E poi continuo Eh, Springtrap Fratmo Che vuoi fare? Io non ho visto assolutamente Foxy Ma sembra che non mi voglia attaccare Quindi devo inserire un Fuzzcoin qui? Io non ce l'ho il Fuzzcoin Cosa devo fare? Raga, non lo so Non lo so mica Ah, guardate, devo trovare un codice È la madonna Sì, è mo? Dove lo trovo sto codice? Porco due Ma Foxy non ti stavo guardando Eh, guardate Adesso c'ho per sempre tutto lo schermo bugato Vediamo dove è finita ancora lì Non credo di doverla chiudere Foxy fuori Non la devo semplicemente guardare lei Lui Non so perché ogni volta la chiamo Lo chiamo con del lei Ah, qui devo portare anche una chiave Raga, io non so cosa fare prima Si è mosso Springtrap Fratmo È lì a sinistra adesso Springtrap Fratmo Ma c'è ancora un altro tizio qui Oddio, ma non è che so due? Spero di no Perché mi basta Mi basta Springtrap Detto sinceramente Oh, oh, oh Ma chi è? Ma sto qui Si so chi è Ma Quindi sono due ad attaccarmi Praticamente lui devo controllare da dove arriva Se la porta è chiusa dove lui la distrugge Quindi con lui mi devo nascondere sotto al tavolo Se arriva dalla parte sinistra Alla parte sinistra del tavolo È uguale con la parte destra Verso destra Ma che casino è? Ancora non ho manco capito come lo devo risolvere questa notte Oddio, ragazzi Ho troppo vent'anni Si riprova Allora Sicuramente qui da qualche parte posso trovare un codice Però non so dove Nelle telecamere non mi pare Quindi guardate Iniziano entrambi da qui C'è Springtrap e l'urso Stai zitto E nei condotti Lo sento nei condotti E qual è? La porta di destra? Controlliamo Sei giusto È sceso lì Ah, ok Ho capito adesso Quindi adesso lui pian piano se ne andrà Se ho smesso di sentire i suoi passi Posso aprire Fantastico Ho almeno capito un pochettino come funziona Però adesso non so manco dov'è Eh, l'orsone arriverà da sinistra Guardate, già si sta incamminando No, no, no Dai Ma non c'è manco il tempo Avevo appena smesso di guardarlo dalla telecamera Ma ragazzi Dai, no Stanotte è proprio difficile Ragazzi Ero al buio perché con la luce non vedevo niente Guardate cosa ho trovato qui Un codice 1, 2, 3 4, 5, 6 7 cifre Questo qui è di soldato 5 Quindi non è quello lì È già Springtrap è andato Forse sono entrambi a destra Quindi in caso mi stanno facendo Mi stanno preparando un doppio mega attacco 3 9, 8 2, 2 9, 5 No, guarda qua qualcuno mi sta per attaccare Sicuro Sicuro quell'orso Sicuro È andato È andato per davvero Però adesso non mi posso nascost- Mi sono nascosto in tempo stavolta Porco 2 Non mi vedere eh Perché ho seguito quello che mi ha detto il gioco Il mio consiglio post mortem Se ne vada Eh Grazie Allora Tatticona Pausa E mi copio il codice Userò questo foglio Morirò 3000 volte Quindi dovrò scrivere il codice 3000 volte Ok L'ho scritto Vediamo Springtrap Spero che non mi attacchi proprio ora Mi sa che è il codice che devo inserire Qui La deve smettere La dovete smettere di ingannarmi Ecco È arrivato ora Però non so più dove è l'orso Ragazzi Ma basta Statevi tranquilli Oh Sta arrivando Ma dai C'è pure ancora la porta chiusa Ma fatemi mettere Cioè Io capisco come fare una roba E qui mi attaccano tre volte di fila Siete degli infami Fattene Ok Se ne è andato Possiamo smetterlo un attimino Springtrap Stai lì Ma scusami Se ne era andato Ma se ne era andato Non è vero Non mi dire che mi ha attaccato due volte di fila Perché altrimenti È ninfamata Oh È scritto qui E ragazzi ve lo giuro Non so quanto vedete voi Ma io non vedo niente con la luce Devo letteralmente spegnere la mia luce Per riuscire a leggere E scrivermi il codice Sarà una rottura Perché sta cosa succederà spesso Tanto che morirò spesso Adesso Mentre loro sono Porco due Ballumbo è proprio lì Si doveva mettere Ma perché non Ma perché Che fastidio Levati Levati 3 1 7 6 8 4 3 Verifica No Come era quello sbagliato Si stromano Ah ok era giusto Cos'è Una moneta Devo inserirla qui Sei serio Che cosa Aspe C'è un problema C'è un problema Dimmi che Mentre sono qui Non mi attaccano Perché non so manco Come uscire in caso Si spera ragazzi Si spera che Va bene Va bene Ciao Tu Devo trovare Cade Per favore aiutami a trovarlo Ragazzi Io vi giuro Spero che non mi attaccano Mentre sono qui Tu che cosa vuoi Dei palloncini vuole Vabbè Te li trovo Te li trovo sicuro Che cos'è sta roba qui Non posso passare Perché sto giocando a Navward in questo momento Che ci fai tu qui Vabbè ragazzi No 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 Sicuro loro stanno arrivando Come 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 mi stacco da qui Non me lo Vabbè Prendo i palloncini Eccoli Li porto da Balloon boy Bene C'ho un pescio Un pescione Lo porto dal tizio Tenga Tenga il suo bel pescione Te l'ho dato Grazie So già che mi stanno Per attaccare Perché li sento Eccolo Ma non mi ha Ma non mi ha fatto Staccare Non mi ha fatto Staccare Da là Quindi lo devo fare Tutto in una botta Velocissimo Ragazzi Mi è venuta l'idea Voglio provare una tattica Assurda Potrebbe essere un suicidio Però È una tattica Ci voglio provare Ora Allora io inizio Subito vedo dove Sto Il codice Maledetto Eccolo Un altro luogo Trovato Foxy però Non mi devi attaccare Mentre io guardo Sto guardando il codice La tattica Che volevo proporvi E pregare Che Dreadbear Non arrivi Che Springtrap Non arrivi Da questo condotto Dove metto la Dove la metto La telecamera E provare A completare Il mini game All'interno Del Della slot machine Qui Il prima possibile Tipo Speedrun Ecco Iniziamo subito Da questa roba qui I palloncini Perché non me li prende Ah prima devo interagire Pure con i personaggi Boh Eccomi Quindi inizio Prendendo i palloncini Di Balloon Boy E li porto Tenga Balloon Boy Mi dia il pesce Il pesce lo diamo a lui Benissimo Mi da Questo E non so cosa sia In realtà Chi lo devo dare Metto in pausa Per capire a chi lo devo dare Ah lo devo usare qui Lo devo usare qui Per raggiungere sto tizio Che mi dice che probabilmente Vuole qualcos'altro Ok andiamo a cercare Questo qualcos'altro Forse L'orologio Si Raga Non stanno attaccando troppo E questa cosa la sto adorando Ecco mi ha dato un gufo E mostro qui a chi lo devo dare Boh No a lei Lo devo dare a lei Ok mi ha dato la chiave Posso essere qui Posso provare a vedere Se magari sta attaccando Dreadbear Proprio così No Dreadbear è proprio Per conti suoi Allora continuiamo Continuiamo Che cosa è sta roba Ok ok So che cosa fare per lui Se Prendi si sbriga Tipo velocissimo Andiamo qui Perché ho visto che qui c'era la torcia Lui voleva questa No Prendila prendila Dai 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 Dammi sta roba Eccoci Dimmi che non devo fare più nient'altro Oh Ho schippato un messaggio Sono stato qui per troppo a lungo Aspetta un consiglio mi aveva detto Che mentre parlavo con un uomo coniglio Non mi avrebbero attaccato Non mi ricordo nemmeno chi ero Ma sapevo che tu mi piacevi E sapevo di essere un umano una volta Ragazzi sta tattica Mamma mia C'ho il cuore a mille Ma credo di aver raggiunto un punto tipo checkpoint Questo non sono io Questa non è la mia faccia Credo che sia il purple guy Perché se sapete le varie teorie Il purple guy Che tra l'altro credo sia ormai confermato Ed è entrato nel computer Che poi è nella versione VR del gioco E forse magari si è collegato anche con questo Nel mondo fangame Non sono parte di questo gioco Lasciami uscire Ok ok varie Immagini di springtrap Fatal error E adesso che devo fare? Oltre al fatto che Quelle porte sono quasi scariche Eh sì Quindi magari provo ad aprirle Chi è che mi ha attaccato? Ragazzi suppongo di aver sbloccato nuovi Nuovi puzzle Non so quali Però loro sono ancora Mi sa che sono tornati al loro punto di partenza E spero che questo qui fosse un checkpoint Vediamo che devo fare Aspetta C'è un codice per caso? 71853 Mi sa che lo devo mettere qui 5 3 Funziona? Non mi pare Lo devo mettere in un ordine specifico Probabilmente morirò adesso Però So che cosa fare dopo Ah Vedete Qui in basso C'è Il codice che devo seguire Quindi adesso Io metto in pausa Non so se considerarlo cheating Però sta cosa qui Mi è utilissima Sta arrivando Dreadbear Sì guarda sta per partire proprio Vai Dreadbear che magari ce la faccio a sconfiggermi Mamma mia Siummico ragazzi dai Anche se Muoio adesso La considero una vittoria Perché Adesso so come fare Per sconfiggerli Bene Se dovrebbe essere andato Controlliamo per sicurezza Springtrap è ancora lì E adesso Con la pausa Segniamoci il codice Ok Il codice è 37185 Ok Va Sì Sì Ho la chiave Una chiave che posso mettere qui E adesso Non so cosa sta succedendo Emergency drop Oh Che cos'è Open emergency door Eh Aspetta la devo girare Ok Adesso posso Che sta succedendo Che figa è successo Ho seguito il conto alla rovescia E basta Ehi ehi Dovrei aver aperto vero Ho aperto Ho aperto Ho aperto ragazzi No Springtrap No non ti voglio Springtrap Io ce l'ho fatta Mori Porca due Non ha premuto il pulsante Ci ha tirato direttamente una testata Oddio raga Ovviamente quello Springtrap non era quello vero Era quello per l'attrazione Un finto non era Il purple guy Va bene Siamo al quinto Alla quarta Alla quarta stanza Ho detto quinto perché Sister location è il quinto mondo Che casino che fai Oh l'ultima parte è stata veramente Movimentata Supponevo di rimanerci 30 anni Lì dentro Ma Ce l'ho fatta Più Prima di quanto prevedessi E spero che questa stanza sia almeno Un po' più semplice Vediamo Oddio E' enorme la zona Oh no Probabilmente qua qualcuno arriverà E gli devo dare il zap Idem per l'altro lato Devo controllare gente qui dentro E dare il zap anche a loro Se si avvicinano troppo Anche quello lì è sicurissimo E dall'altro lato Delle registrazioni E della luce Ah forse devo attirare qualcosa qui E poi illuminarlo Accecarlo Raga non lo so Non lo so e mi sa che Dovrò Controlliamo che cosa ci dicono Devo sistemare baby Devo Controlliamo Controlliamo Non fare Ho paura di quello che dovrò affrontare qui Premi i bottoni Vicino Alle porte Per fargli Far una zap Per 5 secondi Poi si dovranno Ricaricare per altri 10 Premi il pulsante blu Per accendere Le luci della stanza Per alcuni secondi Premi il pulsante rosso Per attivare la shotgun Però La shotgun La devo attivare Quando sono vicini Al Al vetro Probabile Se uso la shotgun Senza motivo Mi attaccheranno Ed ecco qui No La breaker room No Devo premere Il pulsante blu Di sopra Per attivare Bonbon E controllare Funtime Freddy Se attivo Bonbon Troppe volte Mi ammazza Devo ordinare delle parti Selezionare la parte Nel monitor E aspettare Per far ritornare la parte Se sbagliano La parte spedita Le devo ritornare Va bene Devo Si Devo riparare La piccola Circus baby Che non è tanto piccola È enorme Poi devo completare I puzzle E uscire dalla stanza Prima che qualcuno Mi prenda Allora Si prova Vediamo Mi sa che devo Tipo iniziare subito A ordinare una parte Vero? Circus baby Non lo so Qui No Fammi vedere Tipo Accendo la luce Per controllare Che succede Ok la luce non funziona Devo semplicemente Rispedire indietro il bro Quando lo vedo Troppo vicino Perché le luci fanno Flash Capito? Forse devo fare ancora qualcosa Per Porco due Calmini Devo capire come Ordinare una parte Oh non fate casino Ho visto che posso interagire Con questo Ah Un Qua lo devo mettere Perché è la roba del cpu E mi sa che pian piano Arriveranno le parti Forse ogni volta Spono in una zona diversa Uno degli arti E mi sa che dal primo art in poi Poi mi inizieranno ad attaccare Perché finora Perché finora sono stati fin troppo buoni Ah devo scegliere Questa parte qui La testa Fiu Fiu No No non posso Sento ballora Sinistra Porco due ballora Vattene Tu invece come stai? Buona Stati Buona Ti devi stare Perché non lo posso usare Vabbè Non sarà nulla di che probabilmente Ecco La devo Allora Non me l'ha fatta calmare Devo capire cosa Devo fare Mi sa che la testa Però è già messa sopra Baby Effettivamente Sono stupido E mi sa che la posso Già fondere In qualche modo Dai dai Si riprova Si riprova Vediamo se stavolta va meglio E ogni volta mi spostano il Cosa eh Maledetti Ah eccolo 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 E allora Si inizia Boom Quindi adesso Qui si connette E io posso Attaccare la te Forse ancora no Tipo tu Vedi Aspettiamo che si spenga la luce E faccio Boom Ecco Si sta caricando Vabbè E si è calmato Ok ok Ho capito Allora Lui è sparito È sparito Chiama bonbon Quindi adesso Già la testa è attaccata Quindi la posso fondere Starts synchronization 7 7 Ah Cosa devo fare 7 7 Ce l'ha scritto Cosa Devo fare la sequenza Sei scemo Cioè Allora Attiviamo Forse ho fatto Troppo presto Spero di no Per favore Schiantati Grande Tu Ok calma Show next sequence 2 9 7 3 Ma allora 2 9 7 No ce n'era un altro 2 9 7 5 Che dumaroni ragazzi Quindi devo continuare a far così 6 5 Ok Prossimo 1 7 1 5 1 7 1 5 Adesso Non continuo Mi sa che dovevo Non dovevo cliccare cancel So scemo Va beh rifaccio finché non ce la faccio tanto Ah no posso già vedere la prossima sequenza 6 6 1 9 4 6 7 6 1 9 4 6 7 1 9 4 6 7 Il tempo di mettere un codice Non ce l'ho Non ce l'ho 7 2 9 6 4 3 7 2 9 6 4 3 Boom Fondi Fondi Controlliamo se adesso è tutto a posto Sei tutto a posto Sì Lui è ancora là Sì Bene bene Ha fuso la testa Quindi adesso dovrei poter ordinare Un membro Braccio destro Ok E poi glielo attacco Glielo devo fondere Capisco Sempre così Tu stai a posto Sì Oh già è arrivato Figo Allora io lo prendo Braccio destro Glielo attacco Boom E adesso Posso già iniziare Però lei ancora non sta attaccando Mi sembra quasi strano Vabbè Provo a fondere Fus Che cosa Devo fare Che cos'è sta roba Ma te sei scemo Io spero che ogni parte Mi dia Mi dia un check point Perché altrimenti So fregato Vediamo se ce la faccio Daglie Daglie Roma Te sei a posto Lui Ma in realtà Ancora non mi stanno attaccando Mi sembra quasi strano Quindi posso Fondere Ok ok Posso già ordinare un'altra parte Vero Braccio sinistro Veramente troppo buoni ragazzi Veramente troppo buoni Quindi posso iniziare a fondere Anche questo braccio E un altro come quello di prima C'è pure ballora Cavolo Mi stanno attaccando tutti ora Lei gli tocca questo Clicca Bene Vediamo se lui è a posto Non è a posto Chiamalo Benissimo Benissimo Dovrebbero essere tutti a posto adesso Continuiamo a fare qui Ecco fatto Ecco fatto Ecco fatto Ecco fatto Ecco fatto Per gli stessi colori Ma te sei scemo E tra l'altro me ne manca uno Sbaglio Non è dritto per dritto Lo devo vedere da sottosopra Tipo Ma sei scemo? Cioè ma il mio cervello Non è capace di compatire Una roba del genere Sì ci metterò vent'anni Per le gambe No 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 Ma no no Io corro Io corro Mi sono elettrizzato Non ti do la kill Puppamelo Un braccio solo Solo un braccio mi hai lasciato Ma grazie Allora prova a fare una gamba Guarda una gamba Allora prova a fare le gambe Adesso sono le più difficili Meglio farle prima possibile Così sono a posto Aspè forse ho capito come fare Allinei Allinei Faccio una linea per volta Tipo ogni tot controllo se mi stanno venendo a uccidere Ecco dovrebbe essere così Fantastico Fantastico Per davvero Eccola che è impazzita lei intanto Fermiamola subito E' proprio quella che ho di più fra i tre Lui è ancora là Bello tranquillo Boom Soca Eccola che è arrivata l'altra gamba Please Please Mettila e facciamola subito No mettila 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 Oh lo sapevo che mi avresti provato a riattaccare subito Perché io vi conosco voi animatronici Siete tutti infami Mentre adesso lei esplode Vediamo se lui è a posto Sì Bravo lui in realtà E vediamo Ah di nuovo Sta qui però è più difficile però Ma allora è la prima volta che attacchi Da destra Però io so che tu stavi arrivando Per favore dimmi che non l'ho fatto troppo presto Buono Le ha a posto Cioè lui è un po' bello tranquillo in realtà Eccola Ogni tanto Si sente quando lei mi potrebbe attaccare Ogni tanto può essere un falso allarme Però è una roba utilissima che devo ascoltare sempre Adesso Mentre lei sta per essere uccisa Continuo a far qui Di nuovo Di nuovo Guarda 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 E' proprio infame E' proprio infame E' proprio infame Attacca soltanto lei praticamente Fantastico Vediamo se lui com'è Lui è bello tranquillo Solo lei che attacca in continuo Ce l'ho comunque quasi fatta Però ogni volta E' come se mi riniziassi da cavo Perché mi confondo tutto Comunque la tattica della pausa non si batte raga Cioè posso controllare per bene Se che cosa ho sbagliato Raga dovrei avercela fatta adesso Questo qui deve essere rosso No come Io non ho capito che cosa ho sbagliato Ve lo giuro Ok forse ho capito dove ho sbagliato E' così Non lo so Adesso devo controllare se lei mi sta attaccando No Tuttavolta era per davvero un falso allarme Vediamo se cos'è giusto Mamma mia Sì Finalmente mi manca soltanto il braccio Che è una parte facile Anzi ma che sto aspettando Ordiniamolo già Ordiniamolo già Eccolo L'ho fatto L'ho fatto dalla fine Perché è più Facile Ok Fondi Non so che cosa ho fatto Ma dovrebbe aver funzionato Stanno dormendo Uh Sì Posso già uscire Fammi controllare Sì Sì Sium Sium Raga ce l'ho fatta Ma la quarta rispetto alla terza Era una bazzecola Vediamo Provo a raggiungere Però prima l'altra stanza Perché mi sembra che ci sia ancora un po' di roba da esplorare Ah E l'ascensore di FNAF 5 Allora forse ancora non è finita la stanza In realtà io spero che sia finita Premi per scenere Bah Ci proviamo Dai 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 Che ho completato Exotic butters Exotic butters O devo fare qualche Qualche Pazzolino qui dentro Eh guarda Mi metto proprio così come Nel normale FNAF Ascensore rotto No Minirina O sono quelle bamboline di baby schifose Dove siete Sopra di me Sono le minirina Lasciatemi in pace Cosa devo fare Non credo che mi possano jump scherare vero Posso provare ad accendere la torcia No è rotta È rotta Mi si è rotta Non so nemmeno quando Eh che sta per succedere Oh Ah Stiamo cadendo tantissimo Aiuto Aiuto Le minirina hanno sbottato l'ascensore No Mannaggia Mannaggia Quindi effettivamente la notte Non era finita Uh raga Animazione Animazione E poi Sappiamo tutti che tanto ci saranno Tipo sei stanze Perché sei notte No Final 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 Eh 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 Quindi sono sicuro che ancora il gioco Non è pienamente finito Che sta succedendo però E questo è il problema Sì Vabbè ovviamente l'ascensore è caduto E noi siamo caduti con lui E mi sa che cosa è quella nuova zona Ok Niente di più niente di meno Eh no Eh no Eh no Eh abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Clean puliti Credo di poter proseguire Dai dai ragazzi Io provo a raggiungere la prossima Aspetta Per effettivamente Noi eravamo in un'attrazione Secondo me Teoria L'attrazione ha preso parti Di animatronici Che erano effettivamente Della vera Fazzbear Pizzeria E tutti quante Le varie attrazioni Ok E magari alcuni animatronici Sono ancora Gli animatronici Di quella volta Magari anche Le minirina Magari alcuni Degli animatronici Che mi hanno attaccato Finora E mi sa che questa cosa Non era progettata Ovvero che io finissi In fondo al mondo Nell'attrazione Sapete com'è Quindi probabilmente Da ora in poi Non ci saranno Forse nemmeno più istruzioni Cioè mi mettono contro lo schifo Perché effettivamente Non è una stanza programmata Chi lo sa Comunque Voglio semplicemente Raggiungere la prossima stanza E poi ci salutiamo Che cos'è questo Quello labirinto Ah qui ci passano Quelle macchinine Che abbiamo visto Che a quanto pare Riparano Gli animatronici Si va sempre a destra Ho visto qualcosa o sbaglio Mmm Io dico sempre a destra Perché È tipo il motto Dei labirinti Vai sempre a destra Prima o poi Troverai l'uscita Perché tanto poi Ti rigiri E devi comunque Poi andare in tutte le strade Prima o poi Capito È un algoritmo Praticamente Però mi era sembrato Di vedere qualcosa Che non mi era piaciuto Loading Lo Ah ok Perché siamo Di fronte alla quarta stanza Ho trovato la porta Quindi ragazzi Mi sa che mi posso fermare qui Perché mi sa che oltre Ah li hanno distrutti Però c'è un'altra animazione Prima Sono tutti gli animatronici I fan time animatronici In uno Endoscheletro Questo significa Sappiamo tutti cosa Ennard vero? Io riconosco pure il bottoncino Lì al centro No non mi pigli Non mi pigli Non mi pigli Io non ti ho fatto niente Non sono Michael Non è Myers Non sono Michael Afton Non devo diventare Il tuo scudo di carne Il tuo animatronico E mi sa che adesso Inizia effettivamente La prossima notte Mi sa che qua Non mi danno Per l'appunto Più indizi Oh c'è una torcia Che si deve ricaricare così Quindi se smetto di farla girare Si spegne Quindi si stavo dicendo Probabilmente non ci saranno indizi Dato che questa qui Non è una parte progettata Della trazione Però ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Perché lo voglio concludere qui Dato che adesso Mi sa che saremo In una nuova Grandissima parte E noi Ci vedremo al prossimo video Di The Glitched Attro-tro-tro-tro-action E quindi Ciao Ragazzi Grazie